Andrea l'ultima domanda prima di farti andare perché so che sei molto impegnato dato che tu hai un grosso ruolo anche a livello internazionale comunque hai questi grandi collegamenti e poi chiaramente dato che in questo momento ti trovi a Sarajevo sei una persona scelta proprio perché hai un certo tipo di sensibilità e di rapporto anche con l'estero. Io ho sentito prima delle elezioni ma tutti noi l'abbiamo sentito sentite sia la von der Leyen prima per esempio poi Biden dopo sono tutti pronunciati in modo un po particolare entrando all'interno delle elezioni del nostro paese esprimendosi devo dire che credo che sia un'abitudine più o meno di tutti i paesi del mondo comunque perché tutti cercano in un modo o nell'altro di influenzare un po le elezioni. Cosa ci puoi dire in proposito da parte dell'Europa del Partito Popolare poi del quale noi facciamo parte per queste strane affermazioni anche che Ursula von der Leyen ha fatto e anche poi di Biden successivamente? Ma allora intanto bisogna fare un distinguo tra quello che ha detto la von der Leyen e quello che ha detto Biden però e adesso ci arrivo ma vorrei dire una cosa in premessa e mi costringi però a citare un'altra volta Berlusconi ogni volta che gli chiedono un parere non su temi di politica internazionale in genere perché ne dà bene volentieri ma sulle elezioni in un paese che non ma lei per chi fa il tifo per Trump o per Biden o piuttosto che per Johnson o per i lavori la risposta di Berlusconi è la risposta che secondo me qualunque statista dovrebbe dare cioè io non entro nelle scelte sovrane di un paese amico perché in ogni caso qualunque sia il governo che legittimamente quel popolo dovrà scegliere e lavoreremo insieme in nome delle cose che ci uniscono e questo sarebbe bene che alcuni leader come dire con qualche spericolatezza di troppo tenessero presente devo però dire a difesa della signora von der Leyen che la sua non è stata una un'entrata a piedi uniti come la si è voluta leggere la si è molto strumentalizzata da parte della sinistra perché siccome loro purtroppo hanno questa abitudine di puntare sul discredito internazionale contro i governi che non gli piacciono senza curarsi del fatto che questo diventa discredito sul sistema paese allora la frase della von der Leyen è stata molto forzata perché la von der Leyen ha semplicemente detto che ha semplicemente risposto una domanda e dice ma cosa succederebbe se l'Italia andasse ad assumere una serie di provvedimenti politiche contro la democrazia contro l'Europa contro le cose lei ha detto avremmo gli strumenti come sono stati adottati per altri paesi europei per reagire quindi una chiara strumentalizzazione una risposta indotta lei non ha detto che l'Italia lo farà ha solo detto che se lo facesse succede l'Europa e reagirebbe ma ripeto se l'Italia facesse una cosa degli enere l'Italia una cosa degli enere non la farà semplicemente perché forse l'Italia non serve per governo il giorno dopo Biden è un po' più vittima della volontà di strumentalizzare politicamente le cose lui ha dei grossi problemi di politica interna, dei grossi problemi di consenso nel suo paese ha grosso bisogno di richiamare un elettorato, di rifidelizzare un elettorato tieni conto che fra poche settimane negli Stati Uniti ci sono le elezioni di medio termine si dà per scontato, almeno l'ultima volta ho incontrato negli Stati Uniti ho incontrato diverse persone sia repubblicani che democratici tutti davano per scontato che la Camera dei rappresentanti sarebbe andata trionfalmente in mani repubblicane e con ogni probabilità anche il Senato sarebbe stato in mani repubblicane quindi Biden si prepara ad essere la classica, come si dice in linguaggio politico americano l'anno tra zoppa per cercare di reagire a questo lui sta cercando di fidelizzare fortemente il suo elettorato con tutta una serie di prese di posizione nella quale secondo me si inquadrano anche quelle sull'Italia volte non tanto a parlare all'Italia quanto a parlare ai suoi elettori di sinistra ai suoi elettori di New York, Ocasio Cortez, quelli che la votano per risvegliarli proprio che poi è il mondo di Long Island, di Martha Wynard sei preparatissimo in politica estera la liberal fic americana credo che l'attesimento di Biden vada molto letto in questa chiave purtroppo fare politica estera pensando prima di subito principalmente alla politica interna di solito porta a fare dei guai se l'attentato di Serraevo ha distrutto l'Europa è perché molti politici europei hanno pensato a quello che succedeva in questa cittadina della Bosnia pensando agli effetti che ha avuto sulla loro situazione interna quello che stava succedendo e i risultati sono stati il massacro per tutti l'inutile strage come disse benedetto il Papa benedetto quindicesimo che è il più lucido di tutti Andrea, fantastico ti ringrazio molto